Vai, Aldo! Pronto! Oh no! Ha detto Gianni che fanno entrare solo chi è vestito bene. Mia madre veste blu e fine. Queste sono le sue maglie. Prova, Pratiara. Bellissima! È della mia taglia. Sa anche di cocco. Ti sei lavata il capellino in palestra? Scusa, questa è la maglia. Che confusione! Chiara, vuoi che ti aiuti a toccarti? No, no, non ti disturbare. Grazie, ci penso a Franci. Secondo voi, se mi presenti quella sigaretta in bocca, mi si nota di più? Ma sei fuori di testa. Non ci vorrà intusare e far respirare più un po' attivo. I vecchi, pure la multa. Non lo sai che vi da fumare e i luoghi pubblici. Ma cosa vuoi che sia una sigaretta? Non sono mica così stupida da prendere il vizio. È giusto per darmi un po' di tono. Piantala, per favore. Torna in gel. Chiara, trovo questo. È di mia sorella. A me non va bene. Vuoi scarpe? Non mi senti. Grazie Chiara. Grazie Chiara. Wow, sempre becca anche il. Ho una socca piena di scarpe. Sono di varie misure. E così mi si nota? Sì, si nota quanto sei patina. Voi non mi capite, io ho scoperto la mia nuova personalità. Non voglio più essere la studentessa modello, brava bambina. Non voglio più passare le mie giornate confide che fa pensieri profondi e suona la chitarra. Io voglio cominciare a vivere davvero. Basta studio, casa, casa studio. Non ce la faccio più. Bella prospettiva. Allora provavo fumo, discoteca, discoteca, fumo. Allora provavo fumo, scoperto. Franci, prova questo jeans. È di mia mamma. Vuoi vestire gioco di bada? Franci, prova questa donna, è elasticizzata. Ti vedi che mi entra? Così sembra una salsiccia. Non mi va bene niente, è tutto stretto e corto. Io non posso venire. Ma no, cosa dici? Senti Marcia, non ti offendere, ma mia nonna porta la tua taglia. Se vuoi, stasera posso chiederle. Cosa c'è? Tua nonna? Perché non tua nonna? Mi sembra più patiare il mio piccolo. Ti sei offesa. Ma cosa ho detto? Scusa, 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 scusa. Marci, dove vai? Non ti stava male quella gonna. Magari con un bel maglione lungo sopra. Caci, Bianca, non potevi stare tutta? Non tutta hanno il tuo fisico. Ma cosa ho detto? Io volevo solo rendermi utile. Vabbè, fra un po' la chiamo io. Le cerco di aggiustare le corne. Intanto per adesso finiamo qui. Intanto, prima o poi le passerà. E adesso musica!